Presidente, sul fronte di chi chiede le elezioni, un fronte appunto trasversale, anche una parte della Lega, a sorpresa con Maroni, ecco c'è una divisione nella Lega e soprattutto Italia dei Valori, come si porrà rispetto a questo problema per una magari nuova alleanza trasversale? Presidente, abbiamo messo il dito nella piaga con questa legge, con questo referendum e ne siamo orgogliosi perché finalmente possiamo curare il male, nell'uno dei due modi possibili, o a elezioni anticipate o con il referendum, nell'uno e nell'altro caso la politica non può più scappare dalle sue responsabilità.